Mi chiamo Leonardo Marino, ho 66 anni, vengo da Marsala. Allora io prima di venire qui, il dottor Palmas, ho avuto intervento in Ungheria anni e anni fa e avevo impianti, avevo sempre dei problemi. Poi una sera mi sono deciso e ho chiamato tramite Facebook. E così poi ho deciso di venire qui in Moldavia. Beh diciamo che forse è come una donna quando magari non ha i capelli giusti o non è truccata. Io magari avevo questi problemi che avendo dei denti così mali che non li avevo nemmeno giusti. Magari dovevo sorridere, avevo una cosa che mi bloccava. È come un freno che ti blocca come la macchina che la devi fermare. Mi sentivo questo. Adesso questi problemi non ce l'ho perché mi sento libero proprio nel parlare. Anche quando mangio mi sento abbastanza libero, non ho quelli problemi. Non posso mangiare da questo lato, dall'altro lato. Mangio tranquillamente qualsiasi cosa. E posso dire che sono abbastanza contento. Non pensavo che avevo dei problemi nell'intervento. Eppure posso dire che non ho mai preso nemmeno una pillola per il dolore e niente. Perché ho stato un paio di ore sotto l'intervento, però stavo bene. Diciamo dolore non ho sentito. Mi faceva più male sedere a stare seduto nella patrona che a sentire i dolori per l'impianto. Guarda, le mie paure erano sempre... ma si sente sempre tese la persona. Perché sentirlo dire dagli altri persone, magari ascoltando un video o tramite i giornali, leggendo qualcosa, uno è indiffidente. Ci crede, non ci crede. Allora io, purtroppo, mi sentivo un po' teso. Però ho superato tutto questo e ne sono abbastanza orgoglioso. Perché di quello che pensavo io mi è risultato tutto all'interso. non ho sentito niente, nessun problema e tutto un sino ad oggi sono più che contento. Non ho problemi, tutto lì. Cioè, mi sento bene.